Un saluto dal Tg della Mobilità. Sino al 7 dicembre sono in programma lavori sull'armamento tramviario di Viale Trastevere e contemporaneamente verranno eseguiti interventi di potatura sulla circonvalazione Gianicolenze da parte del servizio Giardini. La linea tram 8 viaggia su bus lungo l'intero itinerario mentre la linea H effettua tutte le fermate presenti sulla circonvalazione Gianicolenze e su Viale Trastevere. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.